ciao sono cinzia sono in un soggiorno salotto living room inglese ecco volevo far vedere una tipica living room ecco sono a cardiff nel galles questo adesso io sto facendo prendendo un tè l'ora del tè la c'è il tavolino con insomma parecchiato per il tese vengono gli amici le amiche ecco qua poi c'è un insomma un camino più di estetica con sopra un bel tv e poi un pochino arredato un po in senso c'è gusto femminile e le finestre che a me piacciono tanto con davanti poi il tavolo per il pranzo ecco sono così belle aperte ecco qua poi dopo qui c'è sono le poltrone dove poi sono anche seduta io un attimo che mi stancho sono anche seduta io qui in questo momento per la mia ora del tè per un attimo di relax anche per come dire godersi anche un pochino l'ambiente certo che poi la casa è anche molto bella cioè con della moquette molto bella e questo è più che altro è un living room nel senso dove si ricevano gli amici ecco qua i quadri non mancano mai ovviamente un ambiente in cui anche grande come stanza ecco qua adesso è veramente molto grande come soggiorno ecco ovviamente l'arredo loro è un po' pacchiano certi volte sono molto tradizionali e sento che vabbè e adesso vado sul tè il mio tè ecco la tazzina bella colorata con i fiori era un piccolo video che volevo fare per questo ambiente qua ciao ciao cinzia da cardis nel galle e domani rientro a londra bye